Mi chiamo Claudio Barbagallo Che viene da molto lontano, sono per noi E' James, è James, vero? E' Mario, ragazzi! Questo, ragazzi, è ancora un work in progress Quindi non rompiti i coglioni, se ne vanno Ok, supporti, ragazzi Questa è un gruppo che ci piacerebbe vedere qui al giardino Questa è dei Timon! Questa è di Danese, di Kona Don't break the circle Forza, ragazzi Viete pronti Forza, ragazzi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.